Presidente Lentigione, Alfredo Amadei, era di rigore la vittoria, è arrivata una vittoria di rigore? Sì, è arrivata, una prestazione molto buona dei ragazzi, devo anche fare complimenti alla squadra avversaria che ha tenuto il campo molto bene, anzi ha provato a vincere la partita e al di là degli episodi comunque posso dire che il match di oggi, la partita di oggi è stata veramente ad alti livelli. Presidente abbiamo visto naturalmente anche nel corso delle altre partite che tutte le squadre che vengono qua, che giocano con Lentigione, studiano molto Lentigione perché giocano tutti alla grande, poi quando vanno da altre parti giocano forse un po' meno bene, come mai? Ma io non sono gli spogliatoi degli avversari quindi faccio un po' fatica, dico che sicuramente lo stimolo lo avrei anch'io se dovessi giocare contro un Lentigione che fa un bel calcio, che gioca per divertirsi, di conseguenza la carica è massima anche in capo agli avversari, avversari che comunque oggi hanno dimostrato e anche nelle altre domeniche hanno dimostrato di essere comunque l'altezza, non ho visto delle squadre molto deboli, è un campionato difficile questo per tutti. Comunque alla luce di questo ruolino non ci si può più nascondere, è naturalmente campionato di vertice e di alta classifica fino alla fine per la sua squadra. Ma io l'ho sempre dichiarato, noi giochiamo per divertirci, per divertirci e divertirci vuol dire cercare di vincere sempre ogni domenica senza assolutamente nessun dubbio. E di conseguenza essere comunque tra le prime tre o quattro era uno degli obiettivi della società già da tempo, sono già tre anni che giochiamo a questi livelli. Il fatto oggi di essere secondi non vuol dire nulla, nel senso che comunque siamo lì, ce la giochiamo, di fronte abbiamo comunque città importanti, con un organico importante, anche delle ambizioni probabilmente più alte delle nostre. Però noi ce la giochiamo perché la squadra è competitiva, lo spirito è giusto e ribadisco con l'entusiasmo e la voglia di divertirsi sicuramente è più facile essere nella prima parte della classifica. Senza entrare nel particolare dei singoli, però fra i giocatori confermati, i giocatori che sono arrivati, compreso il tecnico, io direi quasi tutto è stato azzeccato per il momento. Sì, se gli infortuni non ci perseguitano diciamo che le scelte che abbiamo fatto sono ponderate, sono legate al fatto sicuramente della qualità dei giocatori ma anche delle caratteristiche comportamentali che si addicono a quello che è lo spirito e a quello che è la mission della nostra società. Il lavoro del direttore sportivo è stato sicuramente premiante e il mister è arrivato, sa valorizzare tutta la squadra, diciamo che siamo secondo me in sintonia con quelli che erano i principi inizio campionato. Per finire, visto che le cose sono andate bene, ma dobbiamo anche dire un buon arbitraggio oggi, solitamente si parla degli arbitri quando sbagliano, questa volta tre rigori concessi a voi, ma al di là di questo una buona direzione, è d'accordo? Allora, al di là degli episodi che ovviamente se io fossi l'avversario direi che tre rigori sono troppi, ma in realtà io ero in posizione e li ho visti tutti e tre, diciamo netti, ma l'arbitraggio è stato all'altezza, io non ho visto, sono già tre anni da quando mi concentro particolarmente sul lato anche della partita in sé che non vedo arbitraggi fuori luogo, io vedo degli arbitri che comunque sono competenti, hanno sicuramente la capacità di leggere il momento, magari qualche errorino, magari qualche segnalazione da parte dei collaboratori di linea ci può stare, qualche errore, ma questo è comprensibile, sino ad ora io posso dire che il bilancio è positivo, non abbiamo avuto dei danni dalla direzione arbitrale, anzi come dici tu, come oggi è confermato, la classe arbitrale oggi è ben preparata.